Ma ormai sono molto meglio l'italiano. E poi mi è venuta così. La poesia è un fenomeno di ispirazione. Così è sbagliata. Vuoi dire che è brutta? Che non ho talento, che è meglio smettere. Beh, allora smetto. Mi dispiace tanto, perché è una cosa talmente, talmente importante per me, per te, per noi. A me pare sbagliata, ma... Non me ne intendo. Questo lo so. Tu ti intendi soltanto di... Di squillo. Oh, andiamo, pube. Ti ho detto che non c'è nulla di vero in quello che dicono i giornali. Quasi nulla. Ci penseranno gli avvocati a smettire tutto. Ma quel poco poi che c'è di vero è senza importanza, dai. Sei troppo intelligente per non sapere che valore dare a certe cose. È proprio quel valore che ignoravo fino ad oggi. Valore e soldi, vuoi dire? Ma di, non penserai che io... Non penso. Lo so con certezza. Me l'hanno detto le ragazze. Cosa? Ci ho passato tutto il pomeriggio ieri, cosa credi? Mirella per prima, poi Lilli. Sono ancora tutti a piede libero. Ne ho approfittato. Volevo rendermi conto. Ho parlato anche con l'organizzatrice. Imola. Dico bene, si chiama così. Volevo rendermi conto. Volevo rendermi conto. Volevo rendermi conto.